Omicidio a Eboli nel rione della pace. Ieri sera un figlio ha ucciso il padre prenderlo a coltellate al culmine di una lite. Sul posto i carabinieri immediatamente intervenuti che hanno arrestato l'omicida e poi è giunto anche il medico legale per effettuare l'esame esterno del cadavere che è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Eboli. La vittima Riccardo Santimone, 76enne e bolitano, è stato ucciso dal figlio Vincenzo, 47enne secondogenico, che a quanto riferito dagli investigatori soffriva di patologie psichiche. L'omicidia dopo aver ucciso il padre colpendolo con un coltello alla gola ha telefonato al fratello che ha allertato le forze dell'ordine. In via Bartolo Longo, una traversa della statale 19, a ridosso del centro, dove accaduta la tragedia, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Eboli, dirette dal capitano Greta Gentili, che speravano di trovare l'anziano ancora in vita, ed invece purtroppo era deceduto ed era riverso sul pavimento in una pozza di sangue. In un'altra stanza, in preda alla disperazione, la moglie della vittima e madre dell'omicidio, che è disabile. Sul posto anche i carabinieri della sezione scientifica del Comando Provinciale dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'omicidio. In tarda serata, in via Longo, nell'abitazione dove è accaduto l'omicidio, è giunto anche il medico legale, che ha effettuato l'esame esterno del cadavere, mentre il magistrato inquirente della Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento all'obitorio, dove nei prossimi giorni molto probabilmente dovrà essere effettuata l'autopsia. I vicini di casa della famiglia Santimone, ieri sera verso le 19, hanno percepito urla provenienti dall'abitazione dove i coniugi vivono con il figlio omicida. Da tanti anni, e purtroppo, soprattutto negli ultimi tempi, le liti erano frequenti. Nessuno però ha immaginato che fosse accaduta la tragedia, e che Vincenzo Santimone avesse afferrato un coltello da cucina e avesse ucciso il padre colpendolo più volte. La vittima, dopo essere stato accoltellato alla gola e anche al torace, ha percorso qualche metro e poi è deceduto finendo violentamente sul pavimento verso il bagno.